Hai mai desiderato conoscere a fondo il misterioso mondo dei rubini? In questo appuntamento speciale, ci immergiamo nel cuore di questa pietra preziosa unica, e siamo qui per condividere con te tutto ciò che devi sapere. Il rubino, affascinante membro della famiglia delle Corindoni, è noto per la sua inconfondibile sfumatura rossa. Questa gemma si unisce all'elite delle quattro pietre preziose, insieme al diamante, allo zaffiro e allo smeraldo. Ma quali sono i segreti che rendono il rubino così speciale? La sua durezza sorprende, solo il diamante supera la sua resistenza su scala di valutazione, registrando un impressionante 9. Tuttavia, ciò che aggiunge ancora più magia sono le sue diverse varietà di sfumature. Dal delicato rosso rosato al vivido rosso intenso, i rubini ci stupiscono con la loro gamma di colori. Gli giacimenti più rinomati nel mondo si trovano in luoghi come la Birmania, la Thailandia, la Cambogia e il Vietnam. Tuttavia, non possiamo dimenticare l'Africa, che è emergente come produttore interessante di questa meraviglia naturale. Va notato che negli ultimi anni, le scorte di rubini birmani hanno diminuito, rendendo queste gemme ancora più rare e preziose. La loro rarità è resa ancora più affascinante dalle inclusioni all'interno delle gemme stesse. Ma non temere, queste inclusioni, se non invasive, sono parte della bellezza autentica di ogni rubino. Ecco il trucco, alcune pietre vengono sottoposte a trattamenti per migliorarne l'aspetto. Ma al fine di mantenere l'integrità della gemma, è fondamentale che i trattamenti non siano eccessivamente invasivi. Siamo qui per condividere la nostra esperienza e assicurarci che tu acquisisca solo un rubino autentico e incontaminato. Da splendidi anelli a eleganti girocolli e orecchini, la nostra collezione offre un'ampia scelta di gioielli con rubini provenienti da diverse parti del mondo. Ogni pezzo è accompagnato da un certificato di garanzia rilasciato da un laboratorio gemmologico. Questo documento certifica l'origine e la qualità della gemma, garantendoti un investimento prezioso e duraturo. Per ulteriori informazioni e per esplorare alcuni dei nostri capolavori con rubini, visita la nostra pagina Facebook. E se desideri una consulenza personalizzata, non esitare a contattarci. Siamo qui per rendere il tuo viaggio alla scoperta dei rubini un'esperienza indimenticabile.